Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Questo è un video di corredo all'ultimo articolo uscito su Tutto su Linux. Si tratta di un articolo per partizionare e formattare su GNU Linux, ma assolutamente da terminale. Allora, vi ricordo che Tutto su Linux.it è una nuovissima piattaforma dedicata appunto a GNU Linux con lo scopo di aggregare diversi contenuti, diversi autori e quindi creare una comunità. Nonostante la giovane età abbiamo già diversi articoli ed un forum, anche sul forum siamo piuttosto attivi, quindi correte ad iscrivervi. Allora, partiamo. Seguirò un po' l'articolo che dovrete assolutamente leggere. Allora, ovviamente esistono tanti modi per tanti programmi per partizionare e formattare, programmi con interfaccia grafica, non siete obbligati ad utilizzare il terminale. Un disclaimer che vi do è quello di fare attenzione. Forse non c'è nemmeno bisogno di dirlo, ma ogni volta che maneggiate dischi e partizioni dovete stare ben attenti, non vorrete certo perdere dati, no? Quindi è responsabilità vostra fare tutto per bene e non perdere dati. Se siete insicuri sul da farsi, magari seguite questo tutorial su una pendrive su cui non avete dati importanti. Va bene? Allora, cominciamo. Su questo video imparerete alcuni comandi. Si tratta di lsblk, si tratta di fdisk oppure cfdisk e poi mkfs con un particolare file system per formattare, diciamo. E allora, io ho collegato una pendrive al mio computer, quindi cominceremo con il comando lsblk. Come vedete abbiamo un nome di disco, sda, che è il disco principale di questo computer e poi abbiamo sdb, che è appunto la pendrive. Se la scollego, sdb scompare ovviamente da questo elenco. Abbiamo poi per ogni dispositivo le diverse partizioni, sda1, sda2, eccetera, eccetera. Abbiamo anche altre informazioni, ad esempio il punto di mount, per esempio sda1 è montata su root, perché è la mia partizione principale dove è installato il sistema operativo. Va bene? Quindi con lsblk possiamo vedere un elenco dei dispositivi e delle diverse partizioni. Ok, poi cominciamo con il comando fdisk. Fdisk vi darà un elenco delle diverse tabelle di partizioni e delle diverse partizioni presenti. Abbiamo bisogno dei privilegi di amministrazione per utilizzarlo, quindi vado con sudo fdisk e poi do meno l. Do la password, ovviamente. Ok, faccio un po' zoom out. Ok, come vedete abbiamo un output quasi simile a lsblk, nel senso che anche qua vediamo i diversi dischi, anche la pendrive che è attualmente collegata, eccola qua, mi dice anche la marca. E poi diverse informazioni, ad esempio disk label type DOS. Questa è un'informazione importante. Diciamo che di solito la tabella di partizioni è di tipo DOS, si può dire DOS, si può dire MBR, Master Boot Record, i due termini sono un po' intercambiabili. Oppure può essere una tabella di partizioni di tipo GPT. Allora, nel caso in cui non sapete che tabella di partizioni utilizzare, guardate proprio qua, su disk label type. E quindi in questo caso DOS, MBR. Altrimenti la regola direi che è questa. Per pendrive utilizzate assolutamente MBR, o DOS. Per dischi principali su computer moderni si usa ormai GPT, quindi utilizzate GPT. Ripeto, in caso di dubbi, guardate qua, perché non mi dilungherò su questo argomento. Quindi abbiamo dato il comando sudo fdisk-l e vediamo tutte queste informazioni. I dischi di diverse partizioni con il loro tipo, vedete qua, linux, linux, linux swap. Ok. Ora, se vogliamo concentrarci su un unico dispositivo, basterà specificarlo. Quindi sudo fdisk-l e poi slash dev slash sdb, ovvero la mia pendrive. Ed ecco che qua adesso abbiamo solo le informazioni riguardanti la pendrive. Ora, per cominciare ad editare le partizioni, dobbiamo semplicemente togliere il "-l". Ok, ingrandisco di nuovo un poco. Adesso vediamo che stiamo già interagendo con fdisk e possiamo richiamare la guida di aiuto con M. I comandi che ci serviranno ve li dirò direttamente io. Ad esempio, P è per stampare le partizioni. Ecco, vedete esattamente la lista delle partizioni che avevamo visto. Poi, se vogliamo cancellare le partizioni, andiamo con D. Adesso ci chiede quale partizioni vogliamo eliminare. Di default ti va ad eliminare l'ultima, ovvero la quinta. Va bene così. Ok, e la quinta partizione è stata eliminata. Adesso io potrei andare con D per eliminare tutte le partizioni. Vabbè, ma è un'operazione un po' lunga. Se vogliamo eliminare tutte le partizioni, a questo punto conviene partire da una tabella delle partizioni vuota. Ok, vi ripeto che potete utilizzare MBR oppure GPT. In questo caso, essendo una pendrive, andrò con O per creare una tabella delle partizioni MBR. Se vi serve GPT, dovete andare con G. Ok, è una pendrive, vado con tabella delle partizioni MBR, quindi do O, invio. Ok, come vedete è stata creata una nuova tabella delle partizioni MBR assolutamente vuota. Infatti, se vado a stampare la lista delle partizioni con P, non trovo nessuna partizione. Quindi possiamo andare a crearle noi queste partizioni. Come si fa? Con N. Vado con N e creo una prima partizione. Visto che si tratta di una tabella delle partizioni MBR, abbiamo la possibilità di creare una partizione primaria oppure estesa. Questo vale solo per la tabella di partizioni MBR. Per GPT potete creare semplicemente tante partizioni quanto volete. Credo che ci sia un limite dato al sistema operativo che sia di 128 partizioni. Invece, nel nostro caso, possiamo scegliere tra primaria ed estesa, ma abbiamo un limite di 4 partizioni primarie. Fintanto che restiamo entro questi limiti, possiamo crearle tutte primarie. Se abbiamo intenzione di superare il limite di 4 partizioni, dobbiamo crearne 3 primarie, ma la quarta deve essere assolutamente estesa. E questa partizione estesa ci permetterà di superare il limite. Magari vedremo come. Allora, intanto ci dice per default che la partizione sarà primaria. Va bene, è la prima partizione. Facciamo la primaria. Poi ci dice il numero di partizione 1. Chiaro, questa è la prima partizione. Primo settore, lasciamo quello di default. Ultimo settore, se lo lasciamo quello di default, praticamente utilizzeremo tutto lo spazio disponibile. Se invece vogliamo fare una partizione, che ne so, di 1 giga, allora facciamo più 1 G. E verrà creata una partizione di 1 giga. Possiamo andarla a vedere con P. Eccola qua. Sdb1 di 1 giga, tipo Linux. Su questo ci ritorneremo a breve. Andiamo a creare una seconda partizione con N. Anche questa primaria. Facciamo la numero 2, ovviamente. Primo settore di default. E la facciamo anche questa di 1 giga. Tanto per... Va bene. Più 1 G. Ed è stata creata anche la seconda. Facciamo una terza, facciamola anche primaria. Quindi vado con N. Primaria P. Numero della partizione 3. Primo settore va bene. Ultimo settore. Direi di fare una cosa per insegnarvi qualcosa di nuovo. Vado con meno 1 G. Cosa significa meno 1 G? Che stiamo dando a questa partizione tutto lo spazio disponibile, tutto lo spazio rimanente, ad esclusione dell'ultimo giga. L'ultimo giga, dopo l'ultimo settore di questa partizione, rimarrà vuoto, sarà spazio libero. Va bene. Quindi abbiamo creato la terza partizione. Andiamo a vedere. Abbiamo queste tre partizioni. La terza partizione è toccato 4 giga, più o meno. E abbiamo dello spazio libero. Quanto spazio libero? Ancora 1 giga, esattamente quanto abbiamo indicato. Va bene. Quindi creo la partizione. Vado con N. Ecco. A questo punto, di default, non abbiamo più la partizione primaria. Ma la partizione è stesa. Perché? Perché è la quarta partizione. Se volete fare quattro partizioni, potete cambiare, potete dargli primaria e va benissimo. Se volete fare più di quattro partizioni, è stesa. La facciamo estesa. Quindi vado con E. Primo settore va bene. Ultimo settore va bene anche quello di default. Perché voglio dargli tutte le dimensioni, tutto lo spazio disponibile. Ok. A questo punto, all'interno della partizione estesa, possiamo andare a creare delle partizioni logiche. È proprio ciò che ci permetterà di superare il limite delle quattro partizioni. Ora io ne creo una soltanto. Soltanto, va bene. Mi dice, aggiunta la partizione logica numero 5. Va bene, primo settore va bene, ultimo settore va bene. Quindi gli sto dando tutto lo spazio disponibile. Praticamente abbiamo finito. Vado a listare queste partizioni. Eccole qua. Adesso possiamo cambiare il tipo delle partizioni, volendo. Adesso io cambierò semplicemente questa, la prima, per brevità. Vado con T per cambiare il tipo, appunto. Mi dice quale partizione vuoi cambiare. Di default abbiamo l'ultima, noi vogliamo cambiare la prima. Va bene. E a questo punto dovremmo conoscere il codice del tipo della partizione. Ad esempio, se non ricordo male, 83, ah sì, eccolo qua. 83 è per Linux, 82 è per la swap. Comunque con L maiuscolo possiamo vedere tutti i tipi. Eccoli qua. Come vedete c'è anche il supporto al FAT32 per dire, e quindi è questo il codice corrispondente. Io in questo esempio andrò a mettere 82, che è il codice per la swap. Quindi vado con 82, ok, e l'abbiamo cambiato. Quindi la partizione 1 sarà un'area di swap. Ok, fino a questo punto è uguale a quello che abbiamo fatto. Non abbiamo rischiato nessun danno, perché le modifiche non sono state ancora applicate. Per applicare le modifiche sul disco, per scrivere sul disco, dobbiamo usare W. Se invece volete uscire da F disk senza salvare le modifiche, andate con Q. Ok, noi vogliamo salvare, quindi andiamo con W. Va bene, la tavola delle partizioni è stata cambiata. Ok, quindi abbiamo già partizionato, ma non abbiamo formattato. Ora, l'alternativa user-friendly a F disk sarebbe CF disk. CF disk non ve lo spiegherò affatto. Vi faccio semplicemente vedere l'interfaccia. Quindi vado con sudo cfdisk.dev.sdb. Do la password, ovviamente. Ecco qua. Qua ci si muove semplicemente tramite tasti direzionali. Quindi vi trovate un'interfaccia Curses, molto simile ad un'interfaccia grafica vera e propria. E quindi, una volta capiti i concetti che abbiamo detto su F disk, potrete usare CF disk in modo molto user-friendly. Io esco, vi faccio vedere che anche CF disk vi dà la possibilità di partire da una tabella di partizioni vuota. Basta aggiungere l'opzione Z, il flag Z. Quindi sudo cfdisk-z e poi slash dev slash sdb. Ecco qua, come vedete, potete scegliere tra una tabella di partizioni GPT, DOS, eccetera. Io esco e ci fermiamo qua per quanto riguarda il partizionamento. Adesso passiamo alla formettazione. Allora, abbiamo il comando mkfs, make file system, cioè fai un file system. I file system supportati sono diversi ed è anche possibile estendere il numero di file system andando ad installare pacchetti aggiuntivi. Comunque, probabilmente vi trovate tutto già preinstallato sulla vostra distribuzione GnoLinux. Io andrò a formattare queste partizioni, la sdb2, la sdb3 e la sdb5 con ext4, che è il file system più comunemente utilizzato su Linux. E andrò a formattare la swap per fare un'area di swap, ma la utilizzeremo un altro comando. Quindi, come si fa? sudo mkfs.ext4 e poi il nome della partizione. Quindi, eccola qua, slash dev slash sdb2 Ecco, me la sta formattando. Ci vuole un po', ovviamente, perché va a creare anche il journal. e ext4 è un file system con journaling. Va bene, fatto. Risparmiamo tempo, non vado a formattare le altre. Qua bisogna semplicemente cambiare il nome della partizione. Però, quello che vi faccio vedere è questo. Vabbè, do slash dev slash sdb3. Vi faccio vedere che possiamo dare un'etichetta alla partizione. Adesso, facciamo un esempio che sarà una partizione per, non so, Linux Mint. Allora, possiamo chiamare questa partizione, Mint. Come si fa? Con il flag L maiuscolo. Quindi, sudo mkfs.ext4-l L, l'etichetta che vogliamo dare è il nome della partizione. Ecco, va bene, lo sta facendo. Quindi, una volta creato il file system su sdb3, vedremo anche questa etichetta. Ci vuole un po' di tempo, nonostante sia solo un giga. Va bene, da questo punto in poi non creeremo un altro file system su qualche partizione. Adesso vi mostro semplicemente il comando mkswap. mkswap è per creare una partizione di swap, appunto. Quindi, mkswap slash dev slash sdb1. Ok, già fatto. Va bene, adesso abbiamo formattato e quindi possiamo utilizzare queste partizioni. Il vostro sistema operativo probabilmente ve le ha anche già montate in automatico, ma se volete montarle voi, andate con sudo mount slash sdb2 e la montiamo su mnt. Ecco, fatto. Possiamo controllare con lsblk, come vedete sdb2 è stata montata su mnt. e quindi possiamo utilizzarla su slash mnt. Va bene, invece per montare, per attivare, per attivare l'area di swap, dobbiamo dare il comando sudo swap on e il nome della partizione sdb1. Ok, a questo punto possiamo anche vedere che la partizione di swap è stata attivata, lo possiamo vedere un po' ovunque, ad esempio anche su htop. Ecco, qua vedete 5 giga di swap, di cui 1 giga è proprio la partizione che abbiamo appena creato. Ora, i comandi mkswap e mkfs non è che devono essere utilizzate sempre e comunque dopo aver dato fdisk oppure cfdisk, potete utilizzarle per formattare, per creare dei file system su partizioni preesistenti, no? Ed è, non gioca nessun ruolo il modo in cui queste partizioni erano state create. Va bene, credo di aver detto tutto, comunque per più dettagli potete leggere l'articolo, che vi consiglio assolutamente. E sì, per favore iscrivetevi al forum, nonostante la giovane età della piattaforma abbiamo già diversi utenti, un buon numero di post, di discussioni e quindi perché no? Ci vediamo là allora. Ok, questo è tutto, ciao da Clarintux! Grazie!